Buongiorno, 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 ragazzoni buongiorno, sono un po' accalorato, sì, ecco perché mi presento con la magliettina, maniche corte, altrimenti solitamente, sapete, giubbottone, anche se ci sono 40 gradi all'ombra, giubbottone, ma stamattina sono accalorato, accalorato, sì, ovviamente anche per i raggi solari, ci mancherebbe altro di cui finalmente beneficio un po', ma soprattutto per le dicerie, se c'è una cosa che mi calda, Allora, sono le dicerie, quelle cose sapete, buttate lì anche un po' per sentito dire, no, secondo la gazzetta dello sport l'Inter è furiosa, l'Inter è furiosa, ma che hai intervistato per dire che l'Inter è furiosa, che ne sai per dire che l'Inter schiererà la primavera, no, secondo alcune, ma secondo che? Se sai una cosa, dimmi chi è stato a dire queste robe qua, no, ma secondo l'Inter, ma cosa, ma cosa, perché queste robe qua mi fanno, mi fanno un pochettino arrabbiare, dico pochetto poi, perché? Perché poi su queste robe qua, c'è chi si crogiola, e sapete che molti tifosi ci vedono un pochettino come piagnoni, ecco, ecco, ed è qua che voglio andare a parare, piagnoni. Ma sono i giornali, spesso e volentieri, che ci fanno apparire tali, dicendo queste cose così, senza citare una fonte, no, l'Inter è arrabbiata per il calendario schiererà molto probabilmente la primavera, ma che ne sai? Se lo sai, che lo sai, non è che puoi lanciare la pietra e nascondi la mano, se lo sai, lanci la pietra e dici, qua è la mano, è qua la mano, non che la nascondi, quindi io non capisco, non capisco sta roba qua, e poi la mia rabbia, sapete dove scaturisce, è che molti abboccano, perché poi il problema è anche quello, perché poi molti abboccano. Eh sì, in effetti a noi sempre ci va male, sempre così, siamo sempre svantaggiati, non si è mai visto al mondo che l'Inter debba in una settimana giocare tre volte, ma magari giochiamo tre volte, ma magari, ma fosse veramente il Dio Santo sceso sulla terra, ma magari, che significerebbe che ti vai a giocare la finale, ma magari, ma magari, cioè l'anno del triplete, ecco, tutti nominano sempre l'anno del triplete, non giocavamo sempre ogni tre giorni, Ma magari quelle stagioni, ma che benvenissero quelle stagioni là, è segno di forza, è segno di forza, quindi il lagnarsi su ogni cosa a me non piace, il lagnarsi non piace, è vero, magari ci va in culo, specialmente nella fase iniziale del calendario, ci va in culo, va bene, ma questo deve essere un motivo ancora di più per spronare a dare il massimo, per spronare a dare di tutto, Noi intanto ci giochiamo la partita con Napoli come si deve, se ci conquistiamo la finale, poi si vedrà, poi si vedrà cosa si deve fare, poi si vedrà, ma no, ma partire già sconfitti, la mentalità del partire già sconfitti, del partire già come, come... C'è un film, c'è un film, c'è un film, c'è un film, come cazzo si chiama, c'è un film con Robert De Niro sui palombari, Lo sapete già voi, voi sotto me lo scriverete sotto, io non mi ricordo come si chiama, c'è un film sui palombari di Robert De Niro, cioè c'era un nero, poverino, che all'epoca erano discriminati, e si faceva di tutto, si faceva di tutto per non fargli, per non fargli, per non dargli la qualifica, poi, per non dargli la qualifica, e quindi lo appunto svantaggiavano in tutti i modi, Quello che ha fatto, mica si è messo a piangere, quello in tutti i modi, c'è una scena bellissima in cui gli tagliano persino una sacca, non vi spoilero nulla, però ci sono delle scene che ti fanno capire cosa significa, quando uno ci crede per davvero, e quando uno invece sceglie di, come posso dire, di prendere una scusante, un alibi lo prende e lo fa suo in modo che può dire sì, ma non mi è andata bene perché mi hanno svantaggato, non funziona così la vita, non funziona così la vita, ma ripeto, questo discorso lo faccio più a chi veramente poi ci va a credere, a ste baggianate qua, ma il problema sta a monte, il problema, lo dico, sta a monte, il problema è la comunicazione, il problema è la comunicazione perché fai uscire una notizia del genere, l'Inter furiosa per, ma tu non mi dici chi dell'Inter, non mi dici una fonte, non mi dici un cazzo, non mi piace, non mi piace, allora dimmi che hai intervistato, parliamone, vediamo cosa è da dire, questo è, perché è questa la verità, perché tutti, cioè non si è mai visto che, ma non si è mai visto che si giocherà in estate, e chi vuole accampare scuse lo farà comunque, c'è chi se la prenderà con gli orari, c'è chi dirà, ma noi abbiamo giocato alle 17, sì, no, ma noi abbiamo giocato tre partite il sabato alle ore, non si va così, così non si vince, così non si arriva la vetta, questo no, così non funziona, e ripeto, questo per molti è una scusante, e non deve essere una scusante, se la usi come una scusante è un aggravante, invece tu la devi usare come punto di forza, è vero? Noi dimostriamo invece che le possiamo giocare tre partite di fila, dimostriamo quello, poi vedremo, poi vedremo, giochiamole quelle tre partite, poi se arriviamo stanchi alla fine, possiamo andare a dire, ma sai, forse veramente, ma se noi non ci arriviamo neanche, se noi non ce lo creiamo neanche, quel presupposto, stiamo a parlare così, a Vambera stiamo a parlare, questo è il discorso, questo è il discorso, e soprattutto non voglio che venga vista l'Inter ogni volta come una società che si lagna, come una società, non mi piacciono a me le figure lagnanti, lagnose, non mi piacciono, non mi piacciono, se sono interista è appunto perché il credo nerazzurro è ben diverso, l'ideale nerazzurro è tutta altra roba, quindi non mi piacciono queste robe qua, e se si cita l'Inter in un certo modo si deve sapere cosa si dice, questa è la realtà dei fatti, non è secco, sì, ma secondo si dice, intanto 50.000 pagine di giornale per dire che l'Inter è furiosa, però non si sa chi dell'Inter è furioso, non si sa chi, l'Inter è furiosa ma non si sa chi, vabbè, vabbè, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, likeate, se vi va, iscrivetevi al canale, ve l'ho detto che sono accalorato, ve l'ho detto io, mi sono accalorato.